Sequestrati dalla procura di Perugia, il furgone sul quale viaggiava il bambino di sette anni morto venerdì scorso dopo essere stato travolto dal furgone condotto dal padre sul quale viaggiava con l'intera famiglia. Stesso provvedimento per il seggiolino omologato sul quale sedeva. Il magistrato ha conseguentemente iscritto come prassi i genitori del piccolo nel registro degli indagati. La ricostruzione dell'incidente è al vaglio della procura di Perugia che coordina l'attività della Polizia Municipale.